E' ancora ricoverata nel reparto di ortopedie e le sue condizioni vengono giudicate stabili. La donna di 83 anni, a cui i medici erano stati costretti a amputare l'intero braccio destro e l'avambraccio sinistro, dopo l'aggressione subita in un appartamento di Mortise, alla periferia di Padova, da 5 degli 8 cani trovati poi nell'appartamento. La figlia e la nipote dell'anziana vittima sono ora indagate, anche se per alcuni reati si potrà procedere solo su querela di parte che al momento non c'è. Gli 8 cani di razza Pitbull, Amstaff e American Bolly sono stati sequestrati dai carabinieri nell'appartamento in cui venivano tenuti dalla figlia e dalla nipote della vittima su decreto di sequestro preventivo della procura di Padova. Il veterinario, incaricato di fare un sopralluogo, aveva giudicato l'alloggio in idoneo ad ospitare un numero così alto di animali, anche in base alle loro caratteristiche.